Oggi abbiamo paesi che nel giro i cinque anni hanno raggiunto l'Italia, è scavalcato l'Italia dal punto di vista dell'innovazione tecnologica. Allora, non dobbiamo deprimerci, d'altra parte si vive bene. Vi racconto, siccome per nostra soddisfazione e gratificazione, due episodi che riguardano il food, nord-sud, anche in questo c'è stata una competizione. Quando era presidente del Consiglio Renzi, mi invitò ad un pranzo a Palazzo Chigi, cioè la cucina a Palazzo Chigi, ed ebbe l'ardire di propormi una sorta di ribollita, una zozzeria, una cosa con i funghi sciapita, insipida, schifo. E che è sta roba? Ok, gli ho detto, hai visto perché non hai la struttura, so, perché non sei ancora entrato nella civiltà gastronomica. Ho detto, stami a sentire, la prossima volta ti porto un po' di mozzarella campana, ma ti faccio entrare nella civiltà gastronomica. Ma no, la mozzarella, sa, quella poi è grassa, ma va. Ma beh, dopo due tre settimane portammo mozzarella campana, i due tipi per non far prendere collera. Quella della Piana del Sene, molto più dolce, quella casertana, più sapida. portammo chili di mozzarella. Ma no, ma sì, ma no, ma no, si sono scofanati tutto. Tutto. Hanno scoperto la civiltà gastronomica. Grazie. Grazie.